Questa mattina nel Tribunale d'Imperia ha preso il via il processo che vede imputato l'ex ministro Claudio Scaiola per finanziamento illecito a singolo parlamentare nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della casa della moglie sulla collina imperiese. La prima udienza è stata dedicata all'audizione di alcuni testimoni della pubblica accusa sostenuta dal PM Alessandro Bogliolo. Sono intervenuti in questa veste il capo della Polizia Postale d'Imperia Ivan Bracco che condusse le indagini insieme a Guardia di Finanza e Polizia Municipale, Gianfranco Caggero che seguì i lavori di Villa Ninina e l'ingegner Giovanni De Cicco che fece il progetto della ristrutturazione. Secondo una perizia eseguita da un tecnico genovese per conto della procura, il costo dei lavori di ristrutturazione della villa di Scaiola sarebbe stato superiore di circa 2 milioni di euro rispetto a quanto realmente dichiarato, una tesi respinta a pie pari dalla difesa dell'ex ministro. Grazie. 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 Grazie.